Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Scerni, un comune di sole 3000 anime in provincia di Chieti, è in lutto. Piange la prematura quanto improvvisa di partita di Silvio Milanese, un uomo di soli 48 anni, deceduto ieri pomeriggio, colpito da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Eppure ha portato a termine il suo compito di volontario della protezione civile sino all'ultimo. Si occupava del trasporto sociale, accompagnando alcuni ragazzi a scuola al mattino, mentre nel pomeriggio si dedicava agli spostamenti di concittadini anziani e disabili verso i centri in cui effettuavano cure e terapie. Ieri pomeriggio, 3 novembre, stava guidando il mezzo di servizio per portare una ragazza al San Stefano di Casalbordino per una seduta di fisioterapia. Già mentre era alla guida, ha iniziato ad avvertire un profondo malessere. Giunto a destinazione, due medici in servizio nella struttura riabilitativa lo hanno subito soccorso, riconoscendo tutti i sintomi di un infarto fulminante. Hanno chiesto il supporto del 118, che ha inviato un'ambulanza e ha fatto alzare in volo un elisocorso per cercare di salvare la vita del pover uomo. Ogni tentativo è risultato, purtroppo, vano, in quanto il cuore di Milanese, amatissimo all'interno della sua comunità, ha cessato di battere, lasciando nel dolore la moglie e i suoi tre figli.